Bisogna fare un cambio passo per rendere le nostre città vivibili. I quattro capoluoghi abruzzesi nella media delle città italiane in fatto di inquinamento, ma questo non significa che l'aria è buona. I numeri presentati nel dossier Malaria 2023 di Legambiente sono proiezioni di dati parziali che confermano sostanzialmente un quadro già documentato in occasione di Clean City 2021. 29 città italiane su 95 hanno superato i limiti giornalieri di PM10. Rispetto ai nuovi target europei previsti nel 2030, la situazione appare critica con il 76% delle città fuori limite per il PM10, l'84% per il PM2.5. Oltre alle polveri sottili fa da padrone il biossido di azoto, la prima spia del traffico fuori norma con il 61%. Laddove durante la pandemia un effetto positivo dato proprio dal fatto che fossimo ufficialmente chiusi era stato dato dall'abbassamento dei livelli di inquinamento e il miglioramento della qualità dell'aria, la controtendenza proprio poi è stata questa. La reazione rispetto quindi all'allontanamento dall'utilizzo dei mezzi pubblici e la loro positiva azione, quindi mitigatoria, rispetto all'inquinamento. Cosa auspicare con quali tabelle di marcia si fa presto a dirlo? Certo è che per arrivare al 1 gennaio 2030, termine ultimo della nuova direttiva europea che fissa limiti più stringenti, tocca mettere in mano a un programma che mette insieme le risorse rese disponibili dal governo e i piani locali di contenimento dell'inquinamento con l'obiettivo delle zero emissioni. Dato importante che sono circa 50.000 vittime l'anno che derivano proprio dal mancato adeguamento, diciamo del miglioramento dei nostri territori e delle nostre città al tema dell'inquinamento e che causano morti premature soprattutto su più fragili. In Abruzzo e così come il resto dell'Italia dobbiamo incidere sulla mobilità, dobbiamo parlare di una mobilità sempre più elettrica, bisogna incidere anche sui consumi delle nostre abitazioni, dobbiamo immaginare delle abitazioni a emissioni zero. Tutte queste realtà sono accompagnate anche dalle azioni del PNRR. Dobbiamo vigilare affinché queste risorse vengano spese nella giusta direzione e possiamo finalmente avere un territorio più sano che ci permette anche di vincere la sfida climatica. Prossimo appuntamento con le Clean City il 17 febbraio in Abruzzo con la comunicazione puntuale e aggiornata dei dati ARTA.